Nel mondo digitale, i nostri pensieri e la nostra stessa identità sono dei bit che viaggiano sulla rete. Pertanto, se tutti gli uomini sono uguali, anche i bit devono esserlo. Questo è il principio che prende il nome di net neutrality. E sono felice, Commissario Ansip, di aver sentito che lei supporterà questo principio. Ma già il Parlamento, lo scorso aprile, grazie ad alcuni amendamenti, ha fortunatamente inserito nel pacchetto legislativo sulle telecomunicazioni una corretta definizione di net neutrality e l'obbligo per i provider di osservarla. Potranno offrire servizi specializzati e diffondere alcuni contenuti a qualità e velocità migliore, solo a patto di non peggiorare la qualità e la velocità di diffusione degli altri. Ma qualche giorno fa, grazie a un leak del sito edri.org, siamo venuti a sapere che invece il Consiglio europeo, sotto la Presidenza italiana, vuole cancellare dal pacchetto telecomunicazioni l'obbligo alla definizione di net neutrality, nominandola solo come un vago obiettivo cui tendere. Se ciò dovesse essere confermato, semmai verrà annacquato in Europa questo principio, sacrificandolo sull'altare del libero mercato e della concorrenza, Internet perderà il suo ruolo di spazio libero e creativo, che tanto ha contribuito al progresso umano degli ultimi vent'anni. Senza neutralità della rete, Internet potrebbe diventare un servizio all'individuo inteso come mero consumatore, esattamente come è accaduto con la televisione, che da strumento di evoluzione culturale di massa è diventato uno strumento di controllo dell'informazione e quindi di controllo dell'opinione pubblica. Senza neutralità della rete, magari non avremmo neanche potuto leggere questo leak che ho citato, poiché sarebbe possibile rendervi disagevole l'accesso per facilitarlo a contenuti banalmente commerciali. Di conseguenza la neutralità della rete è anche una questione di democrazia e di libertà e mi appello a questa Commissione e a questo Parlamento perché venga mantenuto il principio della net neutrality nel pacchetto legislativo sulle telecomunicazioni che verrà negoziato col Consiglio e per esplicitarlo in forma chiara nell'impostazione del pacchetto sul mercato unico digitale. Grazie. Grazie.